È stata una bella battaglia, deve essere così da qui alla fine, sicuramente fino a qualche domenica fa questa partita addirittura la perdevi, nemmeno pareggiamo. Quindi speriamo che sia la volta buona, che con la grinta, con la voglia, con la passione insieme ai nostri tifosi ci si faccia raggiungere questo obiettivo che quest'anno è come vincere un campionato. È una giornata che purtroppo a livello dei risultati non è andata come altri, anche perché c'erano gli sconti diretti davanti che qualcuno punti doveva fare. Certo, ma noi da qui alla fine ci sono sei partite, se noi si vince tutte e sei le partite non penso che ci sia bisogno di guardare quell'altra squadra. Quindi il nostro obiettivo è domenica per domenica e giustamente spero che ci sia lealtà e rispetto come oggi a San Donato perché nessuno ci ha regalato niente, avete visto la partita. Io questo lo spero che ci sia in tutti i campi perché deve essere così, bisogna lottarsi partita per partita perché questo è il gioco di calcio. Quindi anche San Donato che non aveva da chiedere più niente ha questo campionato fatto benissimo, ha lottato e ha dato l'anima per vincere questa partita. Io spero che sia così in tutti i campi perché questo è il calcio e se no diventerebbe una buffonata. Non conta il fatto che l'applicazione nel provare in partita è quello che facciamo in allenamento. Chiaramente siamo riusciti anche oggi a mettere in bilico una partita che a un certo punto della ripresa poteva essere diciamo in discesa. Contro peraltro però una squadra buona squadra, bella impressione, ha avuto una squadra che ha delle individualità importanti. Però oggi veramente devo dire che devo fare un plauso ai miei giocatori per l'impegno, la dedizione. Questo potrebbe essere veramente un crocevia perché si riacquistino l'autostima e perché i tre punti sono fondamentali che mancavano non so da quanto nella storia della San Giovannese di quest'anno. Quindi proseguiamo il lavoro senza né esaltarsi più di tanto e però avere la consapevolezza che questa vittoria ci può dare veramente un cammino diverso da qui alla fine. Ci si è messa anche la dea bendata con l'infortunio di Cristiano Camillucci. Ci si è la sfortuna, purtroppo ci perseguita. Camillucci è uno dei giocatori con più esperienza però speriamo che sia una cosa risolvibile in poco tempo. Ora vedremo gli esami radiografici e purtroppo è un giocatore in meno di questa levatura, è sempre un problema in più. Però vedremo un po' di andare avanti e questa vittoria ci può anche consentire di guardare al futuro con più serenità.